Per la legge di affinità Fagildo, non si sa la data di nascita, quella di morte è 1086, abbata del monastero benedittino di Compostela in Ispagna. Nell'epitaffio della sua tomba si legge Santo lasciò il mondo per vivere con i santi. Perché? Commento Perché l'evoluto, cioè il santo, nel dopomorte, per la legge di affinità, si fonde coi suoi simili in evoluzione.